L'Atalanta batte il Torino per 3-1 e conquista la vetta della classifica, una partita che forse non è stata bellissima, una prestazione che ha evidenziato dei limiti, però dopo 4 partite, 10 punti, vetta della classifica, francamente io non posso che sorridere. Come al solito faccio alcune considerazioni, ovviamente titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita siamo onesti, anche perché nei commenti avete già detto tanto, l'Atalanta non ha fatto una partita bellissima, davanti soprattutto ci sono dei grossi limiti, Gasperini ha provato a invertire, a cambiare, a rimescolare le carte alla ricerca della formula migliore, però al momento diciamo che davanti siamo ancora un cantiere. Però se davanti c'è tanto da lavorare, abbiamo tante notizie positive che devono essere considerate una fase difensiva solida e senza Gym City e Palomino io non me lo sarei mai aspettato. Certo, magari la stanchezza e l'inesperienza possono creare quel problemino quella volta, però tutto sommato ragazzi, io sono contento di quello che ho visto. Sono contento del lavoro che ho visto sulle fasce, ne abbiamo viste di migliori, sia ben chiaro, però due fasce che spingono, che attaccano, che penetrano l'area, oh, per me oggi è una nota positiva. Centrocampo, ottimo, abbiamo una varietà di giocatori importante, tante soluzioni, ma vogliamo andare oltre. Quante volte l'anno scorso e negli anni precedenti ci siamo detti, ma perché calciamo male sti calcionangoli, sti calci piazzati, e dicevamo lo facciamo perché probabilmente abbiamo paura del contropiede. Ora l'Atalanta, che è più tranquilla, riesce a calciare dei calcionangoli per far male, siamo pericolosissimi sugli angoli e in generale sulle palle piazzate. Siamo freddi, siamo lucidi su quelle cose lì e sono tutte note estremamente positive. Sulle prestazioni, ovviamente, Kuhn Miners, un giocatore, Gasperini ha detto tutto, lo sappiamo benissimo, grande giocatore di piede, forse il miglior piede della nostra squadra. La domanda sarà capire se Kuhn Miners deve fare il centrocampista o deve fare il regista alto, chiamiamolo un po' come vi pare. E' innegabile che dove c'è lui c'è la qualità, di conseguenza è il giocatore su cui bisogna un po' ruotare per, e sarà probabilmente la chiave di volta per capire come far a muovere l'attacco. Però non è l'unica nota positiva, sobbì ieri grande prestazione, grande, grande prestazione, messo fin sul suo lato, grande coraggio, spinta, forza, vigore, capacità anche ad andarsi a cercare il rigore perché al mondo bisogna anche fare queste cose. È stato bravissimo, margine di crescita, non mettiamo le aspettative che non servono, però ieri abbiamo visto una signora fascia fare quello che esattamente vuole il mister. E poi vogliamo dirne un'altra? Abbiamo passato anni a lamentare dei giovani del Vivaio, ieri hanno giocato Colli, ha giocato Ruggeri, ha giocato Zortea, ha giocato Ölund che è giovanissimo e tutti hanno giocato bene, in particolare i nostri ragazzi del Vivaio hanno convinto tutti, nessuno guardando ti veniva la percezione di dire sì l'ha messo dentro perché non c'è nessun altro però si vede che c'è dei limiti. Tutti hanno giocato bene, Zortea ha giocato bene, poi non saranno fenomeni, pace e amen però ha fatto il suo lavoro, Ocoli ha giocato bene, qualche sbavatura ma la possiamo contemplare, Ruggeri all'occorrenza è entrata ed è stato pulito, ha fatto benissimo il suo lavoro. Sono tutte cose che noi per anni ci siamo detti cavolo però sarebbe bello e adesso le abbiamo sotto mano e spesso ci perdiamo a voler guardare il pelo nell'uovo perché non ci piace essere contenti quando in verità di feedback buoni e positivi li abbiamo. Ölund messo in campo non si poteva pretendere di più però sto ragazzo a un certo punto quando ha capito che ce n'era bisogno è partito dalla sua, dalla zona d'attacco a rincorrere un portatore di palla è andato a prenderlo sul fondo del campo. Non vuol dire niente però vuol dire che c'è la voglia, vuol dire che c'è l'ardore, vuol dire che si vuole dimostrare e questo è quello che chiede Gasperini perché quando la materia prima è valida, quando c'è la testa, quando c'è la voglia, poi lui ce la fa a plasmare, a lavorare, a migliorare. L'ha detto chiaramente e quindi io dico affrontiamo con fiducia il futuro. Adesso ci aspettano due partite importanti col Monza e con la Cremonese, due partite che si affrontate anche in maniera cinica però se si portano a casa punti ci danno fiato. Soprattutto la prossima tre punti sarebbero importantissime perché ci sono tante partite interessanti e si può guadagnare fieno. Senza pensare oltre però poter avere anche la tranquillità di aver immagazzinato i punti e quindi di potersi prendere quel rischio e di provare quella soluzione che se una volta va male non succede niente. Vi assicuro che nel processo di costruzione della squadra è importante. Quello che resta comunque a mio avviso è che dopo quattro partite con tanti giovani, con il primavera, con tutto quello che volete, siamo là. Abbiamo già affrontato il Milan, abbiamo affrontato il Torino quindi non abbiamo avuto uno di quei calendari che dice vabbè calendario facile all'inizio. Un calendario onesto in cui abbiamo affrontato sfide di ogni tipo e bene o male ne siamo sempre usciti fuori. Quindi ottimismo, fiducia, non montiamoci la testa perché ripeto c'è tanto da fare però al momento dobbiamo essere contenti. Come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!